Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale YouTube, siamo qui a Città del Messico come sapete in trasferta per andare ad Orlando negli Stati Uniti, mancano appena due settimane al Mister Olimpia e ora sono qui per fare un allenamento di schiena, andiamo! Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti Ok ragazzi, il riscaldamento è finito, ora comincerò con un primo esercizio, farò un 10, 10, 10 con una discendente del movimento, farò 10 ripetizioni fermando l'altezza occhi, 10 ripetizioni in altezza petto e 10 ripetizioni complete, il peso rimarrò al costante, non Quarta serie ragazzi, sempre 10, 10, 10 e poi passeremo all'esercizio successivo che sarà un unilaterale, quindi farò un unilaterale con un braccio singolo, però ora finiamo questo Just keep pushing girl, cause what you got to lose, got to lose, got to lose I won't give up, I won't back down, until I'm lying 60 underneath the deep down I won't give up, I won't back down, cause nobody's having me except for me now I won't give up, I won't back down, until I'm lying 60 underneath the deep down I won't give up, I won't back down, cause nobody's having me except for me now Eccoci qua ragazzi, questo è il secondo esercizio di oggi Farò un red pull Farò un rematore con un braccio singolo Farò 15 per parte alternando le braccia senza le corde Ma沒有 spiegare il piacere nello Aumbles rigure le braccia senza le corde Siamo iniziㅎㅎ Ci sono suome eccoci con il super serie farò questa macchina il super serie con l'altra macchina quindi faremo un soltanto che let pull down lo farò compresa inversa 10 e 15 ripetizioni eccoci con la Grazie a tutti 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 Grazie a tutti